Gonzalo Aguilar, padrone di casa, cos'è che vi ha conquistato di questo posto e cosa volete trasmettere ai vostri amici e ai vostri clienti qui in Toscana? Il posto prima c'è la Toscana che è bellissima, ma questa zona della Toscana è una Toscana che è tranquilla, con un paesaggio stupendo, che si può fare una vita alla natura perfetta. Noi siamo felicissimi qui, si mangia bene, si vive bene, anche c'è arte, i concerti di tutti, si può andare alla Siena e l'uomo a Siena che è una cosa stupenda. Una zona realmente per venire a fare 4-7 giorni, realmente piacevoli. Però ci sono anche i cavalli argentini, los cavallios argentinos, voi siete appassionati da bravi argentini di cavalli e di polo. Vogliamo raccontare un pochettino della scuola di polo che voi avete qui? No, abbiamo una scuola di polo che inizia il polo, questo non è un polo professionista, sino un polo perché vuole iniziare. Ma qui tutte le colline per fare il passeggiamento sono 10.000 hectare di terreno libero del bosco, se vanno il fiume, è una cosa realmente per la natura è unica. Quindi cavalli, buon cibo, atmosfera, eleganza, armonia diciamo, no? Cos'è che piace di più? È un po' di tutto, un po' di arte, un po' di musica, il cibo ovviamente, un po' le donne, anche il shopping, il shopping a Firenze è buonissimo, si fa un po' di tutto. Chi ancora non vi conosce, lei cosa dice? Che questa è una zona per fare una vacanza tranquilla, disfruttare tutto, non è per essere un viaggio veloce, sino per venire con calma e fare una cosa piacevole. Chi ancora non vi conosce, lei cosa dice?